A voi reali bentornati in nuovo video, io sono Bava Figgerino, voi potete chiamarmi Fizz Oggi, perché non riprendo da computer? Vi starete chiedendo Bene, il tono si è rotto ragazzi Sì, purtroppo si è rotto, non si collega più a niente Ora vi spiego un po' come stanno andando le cose Allora, in questi giorni Non stavo facendo video proprio per questo Perché io ormai non faccio praticamente più video dal telefono Purtroppo si è rotto e lo stiamo... il tonore E lo dobbiamo ridare ad Amazon E noi ci danno i soldi Compriamo un altro microfono perché ne voglio un altro Non voglio quello, perché come lo si è rotto Si rompe di nuovo e sono soldi buttati sempre Non lo rispedirlo, no Questa è la brutta notizia Quindi fino a quando non mi arriverà il tonore Cioè non il tonore Non mi arriverà l'altro microfono Io non farò più video Dal computer Magari non mi farò qualcuno come questo Comunque Oggi dirò 60 volte grazie 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 Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 forse ho finito, ne faccio dieci di riserva, grazie, 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 grazie. Ragazzi, l'ho fatto ragazzi, e io cosa faccio? No, non vi ringrazio solo 60 volte, vi dedico pure delle canzoni, state a guardare. Bene, questa è la prima, perché non posso fare un video lungo un'ora. Sì, dei spezzettoni, vi devo fare un video lungo. Non ho visto, mi lascio anche, perché 60 volte grazie, purtroppo. Poi, questa è per finire però. No, no, vabbè. Tutto lì dentro. Poi, questa è la prima. Tocca. Poi, Quince, traguciamo un disco. Poi, tutti puoi con un disco. No, vabbè. Sì, sì, sì.